A poche ore dal tavolo di crisi ex Ilva, convocato domani a Novi Ligure nell'Alessandrino, alla presenza del presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e dell'assessore al lavoro Elena Chiorino, arriva la notizia che una quarta multinazionale, che viene da un paese del G7, sarebbe interessata a rilevare l'ex acciaieria Ilva. A dirlo è stato il ministro delle imprese Adolfo Urso, spiegando che alle due ditte indiane e agli ucraini di Medinvest si aggiunge l'ipotesi di un player che ha chiesto di visitare gli impianti. E se questo tassello di questa complicata vicenda, il bando di gara per la cessione dell'Ilva, dovrebbe essere pubblicato prima della pausa di Ferragosto, andasse in porto, Il cielo, sopra gli stabilimenti di acciaieria e d'Italia, potrebbe essere meno cupo. Sì, perché ad oggi ciò che preoccupa lavoratori e sindacati è la questione cassa integrazione. L'azienda vorrebbe infatti mettere in cassa 5.200 lavoratori, ma le sigle sindacali non sono d'accordo. Chiedono piuttosto che si dia seguito al piano per la ripartenza, che è stato presentato a Roma lo scorso 7 maggio, e peraltro in stallo il prestito ponte di 320 milioni di euro, e chiedono un incontro urgente a Palazzo Chigi. Intanto, domani mattina alle 11.30, al vertice di Novi Ligure, saranno presenti naturalmente anche il sindaco Rocchino Muliere e i rappresentanti di FIM, FIOM e Wilm. Il primo cittadino di Novi auspica si possa fare asse comune con gli altri due stabilimenti piemontesi di Racconigie e Gattinara, dove nel complesso con Novi sono impiegate 600 persone.